Una delle sue prime apparizioni come doppiatore risale al ridoppiaggio del film Quarto Potere di Orson Welle, dove doppiava parecchi personaggi di contorno. Tra i suoi doppiaggi più noti ricordiamo Ruth Gerauer in La Dioc, 1986, Gregory Peck nel Presagio, 1976, Alan Rickman in Trappola di Cristallo, 1987, Laurence Olivier in Cartum e Lance Henriksen in Aliens Scontro Finale. Il suo doppiaggio più celebre è senz'altro quello di Darth Fener nella prima trilogia di Guerre Stellari, dove, grazie a una modulazione robotica meno invadente della controparte originale, doppiata da James Earl Jones, riesce a infondere ancora più carisma al personaggio. Nel 2005 è tornato a doppiare Darth Fener nelle scene finali di Star Wars Episodio III La Vendetta dei Sith, mentre nel 2011 e nell'anno successivo, ha doppiato Donald Sutherland, in due ruoli di rilievo. I film The Eagle e Unger Games, oltre che doppiatore, Foschi è anche attore teatrale e cinematografico. In teatro ha partecipato a numerose rappresentazioni. Ha collaborato spesso con Lamberto Pugelli e il Teatro di Roma nonché con quelli di Milano. Specialmente il Manzoni, da diversi anni legge le opere di Omero insieme a Ottavia Piccolo.